Apple aumenta i prezzi delle app, adesso si parte da 1,09€. Apple ufficializza un nuovo Apple Watch, è l'Apple Watch Nightclub e iPhone 8 potrebbe avere due batterie. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di iPhone Italia Hot News in cui parleremo di iPhone 8, ma non solo perché, attenzione, attenzione, su App Store aumentano i prezzi, adesso le applicazioni partono da 1,09€, ma ne parliamo più avanti, ne parliamo più avanti dopo la sigla, insieme a tutte le altre notizie. Allora ragazzi, partiamo dal nuovo annuncio che c'è stato in settimana da parte di Apple, infatti Apple dopo un po' di rumor in realtà ha annunciato un nuovo Apple Watch. Si tratta di un nuovo Apple Watch Sport realizzato ancora una volta in collaborazione con Nike, quindi è un Nike Edition, in particolare questo è un modello Nike Lab, quindi un sottobrand di Nike che vende questa azienda sul suo sito internet, ma non solo. Infatti questo Apple Watch Nike Lab è disponibile esclusivamente al momento tramite il sito di Nike, un po' come è stato all'inizio per il cinturino Nike Edition appunto dei primi Apple Watch Sport Nike. Per quanto riguarda le caratteristiche ovviamente è un classico, semplicissimo Apple Watch Series 2 con tutte le sue funzionalità, quindi impermeabilità, GPS integrato, nuovo processore più veloce, quindi non cambia nulla da quel punto di vista. Cambia che in questo caso abbiamo un dispositivo unicamente disponibile con scocca silver in alluminio grigio, quindi classico Apple Watch proprio Sport. Non è disponibile la versione in alluminio nero, la versione nero opaco insomma, ed è disponibile unicamente con un nuovo cinturino Nike realizzato in colore nero e bianco con le rifiniture nere e bianche, insomma un particolare cinturino che attualmente non è disponibile separatamente per l'acquisto, quindi lo acquistate soltanto se acquistate l'Apple Watch Nike Lab dal sito appunto di Nike. Non cambiano neanche i prezzi, 439 per il modello da 38 mm con cassa da 38 mm e invece il modello da 42 mm è prezzato a 469 euro, quindi se siete interessati potete acquistare ora questo nuovo Apple Watch Nike Lab non da Apple Store, non sull'Apple Store online, ma esclusivamente dal sito di Nike. Come vi dicevo poi in questa settimana Apple ha incrementato i prezzi delle applicazioni per quanto riguarda l'App Store in Italia in particolare e adesso infatti si parte da una cifra un po' più alta rispetto al passato per appunto le applicazioni più economiche, quindi come tagli di applicazioni abbiamo il base ovviamente il gratis, applicazioni che continueranno a essere gratis su cui non incide ovviamente l'aumento di prezzo, ma per quanto riguarda gli altri scaglioni di prezzo si passa, pensate un po', una volta il minimo per un'applicazione era 69 centesimi, si è poi salita a 79, a 89, a 99, adesso siamo arrivati come minimo prezzo per acquistare un'applicazione che può essere, non lo so, un giochino qualsiasi oppure un utility per leggere i testi delle canzoni, si arriva a 1,09 euro, quindi tutte le applicazioni adesso costeranno più di 1 euro, 1,09 euro non è ovviamente un incremento esagerato, si è aumentato il prezzo di 10 centesimi alla fine, ma è una soglia psicologica che potrebbe pesare. Subito dopo si passa a 2,29 euro, a 3,49 euro, poi si stabilizza sui 3,49, 4,49, 5,49, poi si passa a 6,99, 7,99 e così via fino ad applicazioni che possono costare più di 40 euro, quindi un app store che diventa più costoso per i consumatori, ma che in realtà potrebbe far guadagnare qualcosina in più a Apple, non solo per l'aumento di prezzi, ma in particolare per la riduzione delle percentuali che Apple devolve in sostanza agli affiliati, a chi condivide dei link per scaricare determinate applicazioni, Apple condivideva appunto con queste persone il 7% degli incassi, adesso questa percentuale è stata ridotta, è stata diminuita e si scende a 2,5%, quindi in sostanza Apple ci guadagnerà di più, non si accontentano mai dei nostri soldi. Parliamo ora di iPhone 8, perché questa settimana per quanto riguarda iPhone 8 ci sono state due notizie molto molto interessanti, la prima è un leak che arriva da una fonte molto affidabile come Onleaks, un account Twitter che ha predetto con, diciamo, azzeccandoci tantissimi prodotti nello scorso anno, nel 2016, ma anche nel 2017, già qualcosa, e che inizia quindi a parlarci di iPhone 8, e quando parla lui diciamo che si può stare un po' più tranquilli sulle probabili novità dei nuovi smartphone Apple, in particolare questa persona ha condiviso una nuova schematica di iPhone 8, che non solo conferma il design, ragazzi, che ormai dobbiamo accettarlo, sarà quello probabilmente, non ci sono più tanti dubbi, fotocamera doppia, verticale, su iPhone 8, iPhone Edition, iPhone X, chiamatelo come volete, ma soprattutto un design borderless, tutto schermo davanti, ma questo leak, non chiudete il video perché non sono cose che avete già sentito, questo video, questo leak, ci mostra anche un altro particolare che prima non avevamo notato. Infatti su iPhone 8 potrebbe arrivare un chip per la ricarica wireless, da cosa lo deduciamo? Lo deduciamo da quest'area all'interno del dispositivo, quest'area nella parte centrale del dispositivo, che sembra proprio un chip per la ricarica wireless, in sostanza tutti i chip per la ricarica wireless hanno questa forma, decisamente importante, un quadrato con angoli smussati, che appunto è la parte che poi consente di appoggiare il telefono su una basetta e ricaricarlo, senza attaccarci un filo, in sostanza, un po' come accade con Apple Watch. Ebbene, iPhone 8, iPhone X, iPhone Edition potrebbe avere questa novità, una ricarica wireless, non sappiamo se funzionerà come ricariche wireless di altri dispositivi, ad esempio il Samsung Galaxy S8, sì, sto provando anche l'S8, ragazzi, troverete la recensione su Tech, il nostro canale dedicato ad Android, non solo, ma tornando ad iPhone 8, per quanto riguarda iPhone 8, ci potrebbe essere un chip per la ricarica, in passato Apple aveva testato una ricarica wireless, addirittura senza basette, un qualcosa di molto futuristico, che semplicemente entrando nella camera in cui c'era questa basetta wireless, per osmosi non si sa come, il telefono si sarebbe ricaricato, semplicemente stando col telefono nella stanza in cui c'era la basetta. Non sappiamo se questa funzionalità poi arriverà effettivamente su iPhone 8 o se appunto avremo una ricarica wireless decisamente più tradizionale, come quella di S8 e di altri smartphone. Ma arriviamo alla notizia più importante, al motivo per cui avete aperto il video. Sì, iPhone 8 potrebbe avere due batterie, sì, iPhone 8 potrebbe avere due batterie, una principale, una che fungerà, diciamo, da riserva. E questo potrebbe spiegarci perché Apple potrebbe realizzare un iPhone 8 più spesso, decisamente più spesso, come abbiamo visto in qualche video delle scorse settimane, infatti molti di voi si lamentavano di questo iPhone 8 spesso. Sinceramente, guardate, se dovesse arrivare una batteria o una doppia batteria, delle capacità che vi racconterò tra poco, beh, forse accetterei anche uno spessore leggermente più elevato sul prossimo iPhone. Ma partiamo da questo nuovo rumor, ci sono state delle nuove immagini relative a schematiche che sono trapelate in questa settimana e per quanto riguarda iPhone 8 appunto si è prevista una presenza di due batterie. Una batteria principale, che sarà già molto più grande rispetto a quella dei dispositivi precedenti, come iPhone 7 e iPhone 7 Plus, si parla di una batteria da 2700 mAh come batteria principale. Pensate, prendo ancora una volta il Galaxy S8, lui ha una batteria da 3000 mAh e sappiamo come poi l'ottimizzazione Apple abbia sempre giocato un ruolo fondamentale nella durata delle batterie, considerate che l'iPhone 7 Plus non ha neanche una batteria da 2000 mAh. In una dimensione generale molto vicina a quella di iPhone 7, forse un po' più grande, ma di sicuro più piccola di iPhone 7 Plus, iPhone 8 potrebbe includere quindi una batteria da praticamente 2700 mAh, che potrebbe non essere l'unica appunto, perché ci potrebbe essere una seconda batteria ausiliaria che potrebbe fungere proprio da riserva quando la batteria principale è scarica. Di questa seconda batteria però non si conoscono capacità e caratteristiche, ma appunto Apple potrebbe essere al lavoro su questa soluzione ibrida che potrebbe consentire quindi non solo una migliore durata di partenza con una batteria più grande e principale, ma anche una sorta di seconda batteria che magari potrebbe alimentare, non lo so, il telefono in modo diverso quando serve, attivando modalità di risparmio particolari, insomma è tutto da vedere, però ragazzi le immagini parlano chiaro, su iPhone 8 potrebbero esserci due batterie, di sicuro questo farà felici molti di voi, quindi fatemi sapere nei commenti se sareste disposti ad accettare un telefono più spesso, leggermente più spesso, in cambio di una batteria però di sicuro più duratura. Noi quindi ci risentiamo al prossimo video, se vi è piaciuto questo lasciate un like, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al nostro canale, e seguiteci sui social ma anche su www.iphoneitalia.com, tutti i link sono in descrizione, noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com.